pasta cremosa ricotta e pomodoro è facile da preparare e buonissima trita grossolanamente una cipolla mettila in una padella con un filo d'olio e lascia rosolare qualche minuto unisci la passata di pomodoro aggiungi sale pepe e lascia restringere qualche minuto unisci la ricotta e profuma con il basilico lessa e scuola la pasta al dente saltala nel sugo di ricotta aggiungendo se necessario un po di acqua di cottura della pasta e voilà